La Red Bull di Verstappen ha dominato le tre sessioni di prove libere, ma in qualifica ha messo in evidenza una superiorità allarmante. Salve a tutti e benvenuti su F1 ed intorni. È evidente che il circuito di Spa si adatta benissimo alla RB18 e alla sua grande efficienza aerodinamica, che per tutte le sessioni di prove libere ha dimostrato di essere favorita sin da subito, sia sul girosecco che sul passo gara, grazie alla capacità di progetto di Adrian Newey di mandare molto velocemente le gomme nella corretta finestra di funzionamento. Il distacco dagli altri team è stato davvero enorme e con sette piloti che dovranno scontare le penalità partendo dal fondo in griglia, l'unico pilota senza penalità che ha potuto inserirsi nella lotta per la pole position e nella lotta per la vittoria è Carlos Sainz. Ma è stato subito chiaro, dopo l'ultima sessione di prove libere, che il ritardo accusato dalla sua Ferrari sembrava essere troppo importante per competere anche con Cecco. Nella Q1 la temperatura della pista rispetto al mattino è stata molto più fredda, ma la Ferrari è sembrata avere un buon feeling rispetto alle libere 3. Forse al mattino avevano una mappatura di motore più conservativa e con i tempi del primo settore è sembrata più in linea con la Red Bull. Ma Max Verstappen è stato comunque il più veloce piazzandosi già al primo tentativo in testa con oltre mezzo secondo di vantaggio su Sainz e 8 decimi su Perez. Tra gli esclusi c'è anche Valtteri Bottas che è uno fra i piloti a dover partire dal fondo e ha preferito fare pochi giri per preservare il motore. E passa invece alla Q2 uno strepitoso Alexander Albon che dopo un anno di assenza dalla Formula 1 si ritrova con una macchina che non è certo la stessa che ha lasciato. Nella Q2 lo scenario è pressoché identico. Verstappen e Perez hanno fatto fermare il crono su tempi inarrivabili per tutti e la Ferrari ha tentato di fare gioco di squadra con Leclerc che ha offerto la scia a Sainz, ma il ritardo su Max che ha girato con gomma usata è di quasi 7 decimi. Leclerc si è lamentato di una monoposto che salta stranamente come impazzita sui cordoni delle curve lente. Le Mercedes hanno sofferto molto nei confronti dell'Alpine che si mette in evidenza con Ocon e la McLaren, ma le Mercedes grazie anche al miglioramento della pista sono riuscite a sopravvanzare le Alpine, solo che Alonso non subirà alcuna penalità al contrario di Russell ed Hamilton. Anche Leclerc è riuscito a fare meglio delle Red Bull, ma Max e Cecco non sono usciti per un secondo tentativo. E ancora una volta è riuscito a passare alla Q3 Alexander Albon in decima posizione dopo aver preso la scia e essere stato velocissimo nel primo settore e mette fuori Daniel Ricciardo. La Q3 è stata un chiaro segno di superiorità con Max Verstappen che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1 minuto 43 secondi e 665 millesimi, anche se non conta perché la vera sfida è stata quella fra Sainz e Perez che non avranno penalizzazione in griglia di partenza. E sia Carlos che Sergio hanno commesso dei piccoli errori, ma Sainz ha avuto un secondo aiuto di scia dal compagno di squadra Leclerc che gli ha permesso di fare la pole position data la penalità di Verstappen. Quindi al netto delle penalità la griglia di partenza vede Sainz in prima posizione seguito da Perez, Alonso, Hamilton, Russell e un sorprendente Albon in terza fila. Sono sette i piloti a subire la retrocessione per la sostituzione di alcune parti o tutte le parti delle power unit, delle trasmissioni o della scatola del cambio. L'ordine di partenza di queste monoposto sul fondo è stabilito dall'ordine con cui si sono qualificate. Con la vettura che si è vista in qualifica Max Verstappen è sicuro di poter andare a podio, consapevole della penalità per il cambio motore, che lo costringerà a prendere il via dalla quindicesima casella in griglia, ma in qualifica ha mostrato tutto il potenziale di una Red Bull che, almeno sul giro secco, non ha lasciato spazio a dubbi, essendo l'unico pilota a scendere sotto il muro dell'1.44. Al contrario di quanto ci si aspetterebbe, domenica gli occhi saranno puntati più sul fondo della griglia che in testa. Alla partenza Cecco e Carlos si daranno battaglia, ma sarà più interessante vedere in che posizione arriverà Max e se Leclerc riuscirà a risalire alla china dalla sedicesima posizione. La situazione è un po' diversa per Perez, che da un paio di gara a questa parte, sembra in fase calante e non ha potuto approfittare della scia del compagno di squadra ed è riuscita a fatica a chiudere in terza posizione, che gli permetterà di partire secondo. Ma nonostante la delusione per un gap da Verstappen di quasi 8 decimi, Sergio si è detto convinto di poter insidiare Sainz al via. Partendo sedicesimo, Charles Leclerc si sente fiducioso, anche se il distacco dalla Red Bull è allarmante, ma sarà ancora una volta accanto a Max Verstappen sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio, con la sola differenza di non essere in prima fila, ma in ottava. Il pilota della Ferrari, consapevole della penalità però, ha lavorato sulla sua F1 75 soprattutto in ottica gara. Forse le temperature basse hanno favorito la Red Bull, che è riuscita a mettere le gomme nella giusta finestra, ma Leclerc, dopo aver detto che ci sono state anche situazioni in cui sono stati forti in queste condizioni, il divario non è mai stato così grande dall'inizio dell'anno. La rimonta sembra possibile, c'è ottimista da parte del Monegasco, perché in confronto alle altre squadre, le Rosse hanno dimostrato di essere la seconda forza con un buon margine, ma il rammarico sarà quello di non poter battere la Red Bull, perché non si parla di due o tre decimi, va ben sette. Approfittando della penalità di Max Verstappen, Carlos Sainz, partendo dalla ball position, dovrà sin da subito allungare su Perez e cercare di non commettere errori, perché il distacco che Max ha messo fra sé e tutti gli altri è stato di ben 632 millesimi. Un'eternità, soprattutto se si considera che il leader della classifica eridata ha completato un solo run in Q3 per preservare un set di gomme in ottica gara. La preoccupazione sul gap della Red Bull è alta, ma c'è la fiducia che sul passo gara in realtà la differenza non è altrettanto grande. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e come sempre non scordatevi di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale. Ciao!